Evan, adesso mi vendico e ti faccio l'intervista, perché ieri mi hai fatto soffrire. Allora, dove vai oggi? Teoricamente a Budapest, se il dado non cambia idea. Spieghami, spiegami questa cosa dei dadi che hai tirato prima io sulla mappa. Ogni giorno scegli sei destinazioni, lanci il dado e vai dove decidi il dado. Ok, io già pensavo che fuori di testo, adesso con questo diciamo ne ho la conferma ufficiale. Questo è un dado viaggio, non mi devi mai disubbedire al dado, però puoi scegliere una destinazione più volte. Quindi sei un po' tu che lo guidi, però il dado ti dà la vita finale. Fortissimo, bene, io ti ringrazio tanto che siete stati da noi, speriamo di vederci presto. E dove trovo tutte le tue cose su Facebook? Sul mio profilo, quello del 6%. Ok, lo sapevo già ma volevo fare marketing, adesso sto imparando. Grande Evan, è stato un piacere, ciao caro.